Era la martedì mattina, c'era il mercato e cominciano ad entrare i postini a portarmi i telegrammi, perché una volta non c'era tutto Facebook, non c'era... e io avevo paura ad aprirli. Chiamo il Pino che è alla metro e dico Pino stanno arrivando dei telegrammi, ho paura ad aprirli e il Pino mi fa e prova a aprirne uno. Sì, ma avevo anche paura perché una volta i morti erano tutti i telegrammi. Apro e invece erano le congratulazioni di Guattiero Marchesi per la stella Michelin. Io non sapevo che cos'era e così per me è stata una cosa bellissima, nuova.